E in condizioni gravissime il conducente del tir, il mezzo pesante oltrepassando il guardrail e finito nella scarpata, hanno perso la vita invece i tre uomini a bordo delle due auto. E' un bilancio pesantissimo quello dell'incidente avvenuto alle 6.30 di questa mattina sulla strada statale 100 nel tratto tra Motola e San Basilio nel Tarantino. Sono rimaste solo lamiere contorte della Fiat Multipla a cartocciata. Dopo il violentissimo impatto ha terminato la sua corsa a capovolta, invece la Fiat Panda fermata solo dal guardrail. Duro lavoro per i vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Motola. I sanitari del soccorso 118 non hanno potuto nulla. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica del sinistro mortale. Il tratto della statale interessato è stato chiuso temporaneamente al traffico.